Riscattare la deludente prestazione di Coppa e dare una decisa svolta al proprio cammino, finora aspettative disattese. Non c'è ancora un'impronta riconoscibile, difficoltà nella proposta di gioco a prescindere dalle criticità di cui abbiamo già parlato con dovizze di particolari. Ad esempio per caratteristiche Memusha gli fa fatica in un centro campo a due, di conseguenza lacune evidenti nella fase di non possesso. L'albanese è ritenuto imprescindibile dal tecnico e allora dalla sfida di Siena, mediana a tre, di certo più logica, ma a gennaio serviranno due centrocampisti. Intanto la Reggiana ha passeggiato a Pesaro, incrementando ulteriormente il vantaggio, più undici sui Bianchezzurri, in ritardo di sette lunghezze dalla vicecapolista Modena, che ha espugnato Siena per gli Emiliani, settimo successo nelle ultime otto gare. In sintesi, Cesena, primo snodo della stagione, un vero e proprio bivio per capire, soprattutto conoscere, quale sarà la direzione del Delfino. Auteri. La partita di Cesena è un nodo, come è un nodo importante, dobbiamo fare punti, punti che sono importanti, non è una partita decisiva, perché però è un crocevia importante, ci dirà la strada che dobbiamo prendere. Sappiamo che dobbiamo fare risultati, il risultato passa dalla prestazione che faremo, e faremo una prestazione importante, sono convinto. 20 punti in classifica, di cui ben 16 conquistati negli ultimi 20 minuti. Non è solo un dato meramente statistico. Out di Gennaro e Chiarella, col gruppo anche il neo biancozzurro Alessandro Iacobucci. Non convocato Valdifiori, ex al pari di Zappella, Drudi e Marilungo. 4-3-3 il probabile 11. Tra i pali, Sorrentino ha la seconda da titolare in campionato. In difesa, Cancellotti, Drudi, Veroli, in vantaggio su Ingrosso e Inzita. A centrocampo, Rizzo, Pompetti e Memusciai, davanti Galano e De Marchi, a supporto di Ferrari. Pienamente recuperato, Dursi dovrebbe partire dalla panchina. Soprattutto su Davide Veroli, Auteri, si è espresso così. È un ragazzo che è pronto a prendersi le proprie responsabilità, perché viene da un percorso di lavoro importante, perché è un giocatore, a differenza di scapito dell'età, che è un giocatore anche molto equilibrato e ponderato dal punto di vista della struttura mentale. Quindi Veroli è un giocatore pronto. C'è Sena privo di Maddaloni, Nannelli, Brambilla, De Gemelli, Steven e Cristian Spendi, convocati con la nazionale Under-19 albanese. Tornano dei rispettivi infortuni l'ex Teramo Zecca, Candela e Adamoli. Terza in classifica, cinque punti in più del Delfino, finora la squadra di William Viali. Terza stagione alla guida dei Bianconeri ha manifestato solidità e compattezza. Appena cinque reti al passivo, migliore difesa del girone. Non entusiasmante tuttavia il ruolino casalingo. Due vittorie, tre pareggi e un K.O. Da urlo invece il trend esterno, cinque successi e un pari. Sono inclini a giocare di rimesso ai Romagnoli. Punte rapide e ficcanti. 4-3-2-1. Come da disposizione societaria, tre under schierati dal primo minuto. La possibile formazione. Nardi, tre pali, Ciofi, adattato da settimane nel ruolo di terzino, Mulè, Gonnelli e Favale in difesa. Centrocampo Ardizione, Missiroli e Berti, classe 2004, già otto presenze in campionato. In attacco Caturano e Pierini alle spalle di Bortolussi. Sarà probabilmente Caturano in fase di non possesso ad abbassarsi per schermare Pompetti, fonte del gioco biancazzurro. Viali. Sicuramente ci aspettiamo una partita molto affascinante contro una squadra particolarmente qualitativa, secondo il mio punto di vista, la tenere più lontano possibile dall'area di rigore nostra, perché questa qualità negli ultimi 20 metri porta grandi assist, uno contro uno, tiri da lontano o comunque grande presenza anche nell'area di rigore con attaccanti anche strutturati fisicamente, quindi hanno una fase offensiva molto completa. Tanti i precedenti alla Manuzzi. Vi riproponiamo i gol della stagione 2004-2005, allenatore Gianni Simonelli, vantaggio Cesenate di Ceramitaro, pari di Giampaolo, assistito da Thomas Job, sempre in Serie B, campionato 2006-2007, lo straordinario pomeriggio di Andrea Carozza, due gol e un assist, gioiello su punizione, pari momentaneo di Pellè, 1-2 di Luci, 1-3 di Carozza, ancora su calcio piazzato. In quattro minuti nel secondo tempo il Cesena di Fabrizio Castori rimette a posto le cose, marcatori piccoli e Virdis. L'ultimo acuto del Delfino al Manuzzi quasi 30 anni fa, 9 febbraio 1992, in calce la firma di Rocco Pagano.